ora se dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel fuoco non farà molto di più per voi o gente di poca fede cercate prima il regno di dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più non siate dunque in ansia per il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno vangelo secondo matteo capitolo 6 versi 30 a 34 grazie